Se qualcuno fa parte di una ONG, organizzazione non governativa che va a aiutare personale civile nei teatri di crisi, debba essere autorizzato dalla Farnesina e quindi si abbia contezza e coscienza di chi sono queste persone e dove vanno. Se lo fanno senza questo tipo di autorizzazione, qualsiasi costo di rimpatrio, vivi o anche morti, deve essere a carico delle famiglie, perché è impossibile per questo paese continuare a pagare dei riscatti o spendere dei soldi per della gente che si improvvisa cooperante o aiutante, spesso e volentieri magari lo fa con la parte sbagliata della parte in conflitto. Ogni riferimento è puramente casuale? No, non è puramente casuale, parlo proprio degli ultimi due improvvide ragazze, chiamiamole così, siamo buoni, che in maniera assolutamente autorreferenziale sono andati in Siria senza di fatto un supporto pratico di organizzazioni riconosciute e senza un progetto vero di aiuto alla popolazione, ma solo ed esclusivamente sull'onda emotiva di un qualcuno che evidentemente aveva fatto leva sulla loro scarsa conoscenza e la loro giovanità.